Un disastro fra i più gravi di sempre, più dell'alluvione del 66, di quella del 2010 e di altri eventi estremi registrati nel bellunese, danni per quasi 2 miliardi di euro. La tempesta vaia che si scatenò fra il 28 e il 29 ottobre di 4 anni fa è diventata materia di studio anche per ciò che ha insegnato in termini di prevenzione. Su tutti il lavoro in rete fra i soggetti chiamati ad intervenire in situazioni che il cambiamento climatico sempre più traduce in vere e proprie emergenze. È stato fondamentale nella parte di previsione, è stato fondamentale per aver salvato la vita veramente a delle persone sul territorio. Vaia è stata utile per testare il funzionamento delle strumentazioni indispensabili nei soccorsi. I ponti radio e i telefoni non funzionavano più, i ponti radio perché le batterie erano terminate e era impossibile riuscire ad andare ad alimentare questi ponti. Questo ci ha insegnato che ci siamo organizzati e dovremo fare degli investimenti ancora per il futuro su questo tipo di problematica. Se ne è parlato diffusamente nel corso della settimana nazionale della protezione civile appena andata in archivio. Negli ultimi 4 anni le cose sono cambiate decisamente ma servono ulteriori sforzi. Abbiamo fatto degli investimenti noi e anche le altre forze in campo per adeguare le postazioni, ma certo che in montagna ne abbiamo tantissime, come soccorso al pino ne abbiamo 27 e i costi di investimento sono veramente importanti e quindi dobbiamo farlo con una gradualità.